100 fotografie provenienti dall'immenso archivio dell'Associazione Culturale Mimmo Katarinic di Roma, capaci di raccontare la storia del cinema italiano internazionale dagli anni 60 ai giorni nostri, attraverso i volti di grandi attori e registi come Federico Fellini, Pierpaolo Posolini, Bernardo Bertolucci, Anthony Quinn, Marcello Mastroian e Alberto Sordi, Catherine Deneuve, Roberto Benigni, Claudia Cardinale e Maria Callas. È una mostra affascinante quella ospitata dal Museo di Villa Bassi nella zona termale di Padova, lo scopo lo spiega la curatrice. Fornire un affresco sul grande cinema italiano dagli anni 60 fino all'inizio del nuovo millennio attraverso gli occhi di questo grande fotografo di scena che fu Mimmo Katarinic che durante la sua lunga e fertile carriera lavorò con grandissimi registi e grandissimi attori tra cui Federico Fellini, Pierpaolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Benigni, ma anche grandi attori stranieri come Rutger Auer, come Faye Dunaway, come Natalie Portman, eccetera. L'intento primario della mostra è quello di riaffermare il ruolo che il fotografo di scena ha avuto e in ambito estetico-artistico, diciamo, perché le fotografie scattate dietro le scene non sono preparate, non seguono lo sviluppo del regista e del film, ma sono dei momenti colti dietro le quinte in cui si sviluppa un dialogo tra il fotografo, il regista e l'attore. Per cui un dialogo nascosto, un dialogo celato normalmente al pubblico che al contempo dà anche una dimensione, se vogliamo, antropologica e culturale della produzione cinematografica italiana e non. Guardare il cinema attraverso l'obiettivo del fotografo di scena è un'esperienza complessa, interdisciplinare, organizzata attorno a tre grandi soggetti che, smascherando la finzione cinematografica, rivelano tutta l'essenza umanistica di questa ricerca. La rappresentazione del reale dietro le quinte, il ritratto dell'attore all'interno e oltre la scena il rapporto tra cinema e arte. Ad accomunare i soggetti ritratti da Mimmo Katarinic è la tensione alla diversità, alterazioni corporee, atteggiamenti di sfida o di esibizione, caratteristiche che contribuiscono a renderli veri, trasparenti e vulnerabili. Il fotografo traspone su pellicola sogni ed emozioni dei singoli individui, rivelandone la realtà presente e le aspirazioni. A raccontare questo fotografo incredibile è il figlio Armando, che parte da un aneddoto sul più grande regista italiano, Federico Fellini. Aveva un grande rapporto con Federico Fellini, che veniva spessissimo a studio da noi. Noi avevamo lo studio a Via Veneto, che era un po' il centro della dolce vita, era fissato mio padre con questa cosa della dolce vita. Era molto orgoglioso di questo spazio che aveva acquistato. E Fellini aveva lo studio a meno di un chilometro a Corso Italia, per cui capitava abbastanza spesso che venisse a studio. Aveva una grande confidenza con mio padre, con il quale aveva condiviso diversi set. E si faceva fotografare a livello di ritratto quasi esclusivamente da lui. Infatti di immagini posate di Fellini ne esistono pochissime e sono quasi tutte di mio padre. Quindi questa è una cosa alla quale ho potuto assistere fin da giovane. Perché nel momento in cui sono entrato in quello studio ho avuto la possibilità di incontrare personaggi pazzeschi, come Alberto Sordi, come Fellini, come Proietti. Ma tutti, sono venuti tutti. Potrei fare un elenco, ci vorrebbe un'ora per raccontarli tutti, per elencarli. Grazie.